21.16 minuti primi ancora in diretta per questa ultima puntata prima delle ferie di Amuso Duro continuate a mandare i vostri messaggi al nostro numero di Whatsapp che vedete in sovraimpressione poi inizieremo a leggere anche i vostri messaggi di saluto se volete anche noi lo mandiamo, non c'è problema, al senso forse già questa è, guarda leggetelo se siete corretti se siete corretti, allora fammi dire subito a qui su, noi siamo non corretti, correttissimi sia a te solo che tu purtroppo sei stupido, capite? Ecco perché noi lo mandiamo, tu sei proprio cretino perché se non ti piace la trasmissione o il personaggio, cagni canale, ti dice 576 canale e non sembresse che tu volessi sentire quello che piace a te allora tu incontrami a petto a petto, no? Se tu si fregni, no? Per dirmi le cose in faccia mi le dici in faccia, o no? Uno dice in faccia allora va bene lui va a mettere in un modo scherzoso questo è scherzoso, chiamale scherzoso signor Semproni, ma lei è un cronista, uno che si intende di calcio, dove si colloca in questo planisfero mondiale, ma insomma possiamo stare qui a sentire lei con quel linguaggio da scaricatore di porto, si dia una regolata, Gio Porchetta cioè questo si mette tutti i nomi, è sempre il soldo, lui vorrebbe che io gli dicesse capite dove mi collo, perché già l'ha fatta se battute da dieci anni che passavo sopra a sorte mi collo, capito? Però siccome mi sono stupato, non mi ci posso collocare quindi lascia vedere, a Gio Porchetta, gondri mi in faccia, abiti in via maestri del lavoro numero 27 tu mi sono i calci, tu non ti preoccupare come tu mi dici le cose in faccia? Se sei un uomo, siccome tu sei una mezza pip e solo dietro questi messaggi riesci a dire le cose ma non fa niente, io non mi offendo assolutamente, poi io non sono né un cronista, non sono niente io sono zero, io faccio una trasmissione per necessità, capisci? Lavoro, io lavoro se tu non lo capisci non ti posso fare niente, a te ti si apri la coccia per farteli capire andiamo avanti Allora, si è parlato in settimana anche di un possibile addio di cocco nonostante i tre gol Speriamo di no Speriamo di no